Ciao ragazzi Sono contenta che tu abbia capito Come facevo, non poteva funzionare Perché Francesco non è venuto a lezione? E no che non è venuto, scusami, non ne sapevi niente? Guarda che se non è venuto non è merito mio, è colpa tua No, io non è che sono arrabbiata In fondo non eri tu la paladina degli ostacoli aiutano a crescere Bla 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 bla